Dando una connotazione politica, dando un colore a tutto quello che si dice e di qua si fa in un colore, da una parte si fa in un altro colore e allora quell'obiettivo che vi siete posti, il giorno del ricordo per la pace, non si raggiungerà mai. Se ciascuno di tutti i coloro che sono stati protagonisti nel nero e nel rosso, nel bianco e nel giallo, adesso ci capiamo molto facilmente, se ciascuno di tutti i protagonisti non riconoscerà che comunque sono state delle barbarie da una parte e dall'altra. Nel momento in cui io di un colore riconoscerò che ho sbagliato e un altro di un altro colore riconoscerà che ha sbagliato, allora ci si potrà tendere la mano, avvicinarsi e raggiungere l'obiettivo che vi siete proposto, quello della pace. Altrimenti le distanze non solo rimarranno uguali ma tenderanno ad aumentare. Grazie.